Contrarre il Covid-19 per i dipendenti delle aziende è equiparabile ad un infortunio sul lavoro e per il datore si prospettano tutte le conseguenze civili e penali fino in caso di decesso all'ipotesi di reato di omicidio colposo. È quanto previsto dall'articolo 42 del decreto Cura Italia una norma che ha lasciato a dir poco perplessi gli imprenditori tanto che l'Inai nella tarda serata del 15 di maggio ha già corretto il tiro. Il datore di lavoro si legge risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa. I dubbi comunque restano nonostante questo la voglia di ripartire c'è soprattutto da parte di coloro che dopo due mesi di stop tireranno su di nuovo le saracinesche. Il 18 maggio al via i negozi di vicinato i bar e i ristoranti i parrucchieri e gli estetisti. Pronti per ripartire? Sì dai finalmente sono hanno fatto riaprire speravamo questo e hanno ridotto anche le norme quindi è anche più possibile lavorare più facilmente sì 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 per quello ci siamo contenti. E come funzionerà? Allora noi che abbiamo i prodotti esposti dobbiamo fornire alla clientela guanti monouso che al momento in cui escono dal negozio possono tranquillamente buttare e anche calzini monouso perché se no non è possibile provare le scarpe. Ho visto massimo tre persone? Questo è quello di quando abbiamo chiuso purtroppo per la capienza del negozio noi possiamo far entrare una persona sola sì. Però insomma il lunedì sarà un giorno un po' particolare? Sì ora speriamo che la ripresa sia insomma buona però purtroppo tutta questa confusione anche il fatto che molte famiglie purtroppo non dispongono come noi d'altra parte di liquidità però speriamo vada tutto bene. Di qua riapriremo lunedì quindi siamo pronti e carichi per questa ripartenza dopo due mesi di attesa e speriamo che insomma ci sia anche una ripartenza di entusiasmo anche da parte della gente perché insomma ce n'è bisogno di vedere anche magari flussi importanti per il corso cosa che effettivamente anche prima di questa pandemia erano un po' non dico in crisi però c'era sicuramente dei cali di affluenza e di movimento. Rispetto all'articolo 42 c'è chi addirittura ne chiede la sua abolizione tra questi anche il presidente di Estra Francesco Macri che dal suo profilo facebook scrive se l'impresa rispetta tutte le regole per la prevenzione e tutte le misure indicate nelle varie normative emanate in queste settimane non può essere ritenuta penalmente e civilmente responsabile dell'eventuale contagio di un dipendente. Per assurdo potrebbe anche lavorare in smart working quello che prevede l'articolo 42 del cura Italia per i modi in cui si diffonde il contagio e per le incomplete conoscenze sullo stesso covid è non solo sbagliato ma anche pericoloso perché potrebbe provocare un rallentamento alla ripresa produttiva del paese e indurre molte aziende a prolungare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali.